Buona martedì 18 giugno. Tra qualche giorno inizierà il tempo delle vacanze, l'estate. Certo, le vacanze sono un'opportunità per chi un lavoro ce l'ha, ed soprattutto è un lavoro stabile e che concede il diritto di prendersi dei giorni di vacanza. Ci sono molti lavoratori e lavoratrici che non possono permettersi le vacanze. Devono lavorare, anche se siamo in estate. Poi c'è il mondo degli studenti, i quali sarebbe bene che continuassero a coltivare lo spirito attraverso la lettura, lo studio, l'approfondimento, anche divertendosi. Non c'è nessun dubbio che ci sia una legittimità che possiamo anche immaginare in un diritto al divertimento. Ma non voglio parlare di questo oggi, voglio parlare del significato della parola vacanze, pacus, fare vuoto, liberarci da pregiudizi, da ritualità consolidate, per rendere possibile un tempo di discernimento e di ponderazione, che ci porti a immaginare nuovi percorsi di fronte all'evidenza di un cambiamento d'epoca radicale e profondo. E a questo proposito dobbiamo soprattutto porre mano al nostro spirito critico nei confronti della visione che abbiamo della vita e dell'esistenza. Chi frequenta il mondo dei club dichiara di farlo a partire da una visione ecosistemica, addirittura ecologico, sociale e antropo-spirituale, ma siamo sicuri che abbiamo veramente sgombrato il campo da tutti quei pregiudizi lineari che hanno caratterizzato il Novecento, a volte anche tragicamente, il pensiero positivista, ingegneristico, la presunzione di essere superiori agli altri in virtù della potenza della tecnica. Siamo sicuri? Io non sarei così certo. Di fronte al mistero della sofferenza umana, di fronte al disagio spirituale formulato in questi termini da Fradi Minudolin, l'incapacità o l'impossibilità di accettare se stessi alle condizioni date, ci poniamo sempre con un atteggiamento che è piuttosto ambivalente. Ecco che allora questo tempo dello svuotamento, l'estate, sarebbe bello che si trasformasse in una opportunità di approfondimenti conoscitivi che portino ciascuno di noi alla disponibilità di cambiare rotta di fronte al cambiamento d'epoca. Una summer school, una scuola estiva, permanente, perseverante, che si preoccupa prima di tutto di rivisitare i nostri radicati pregiudizi che emergono ogni volta che c'è una crisi, ogni volta che c'è una condizione che sembra quasi insuperabile, chiediamo l'intervento della potenza della tecnica farmacologica talvolta oppure dei saperi esperti, accademici. È possibile che nel tempo dell'intelligenza artificiale non riusciamo a interrompere una ricaduta che assume i toni della inarrestabilità. Non è possibile che nel tempo della potenza della tecnica e dell'intelligenza artificiale una persona continui a essere depressa, manifestando anche addirittura una resistenza ai farmaci. Non è possibile. Ecco che allora svegliamo qual è il nostro vero pensiero, che non è propriamente ecologico. E guardate che quando io dico questo non affermo che ci sia un'ostilità nei confronti della tecnica come strumento per facilitare il percorso dell'uomo su questa terra, assolutamente no. Tecnica è utile, ma non può diventare un idolo. E soprattutto non possiamo nasconderci dietro alla tecnica quando siamo chiamati a metterci in discussione sul piano personale, perché la multidimensionalità della sofferenza umana, il disagio spirituale, in qualche modo ci parla di una complessità che non riusciamo a vedere. E quella complessità, una volta vista, ci mette in evidenza come ognuno di noi, in qualche modo c'entra e come. Non è affare del soggetto sintomatico di turno. Riguarda tutti noi, riguarda le nostre contraddizioni, riguarda il nostro modo di vivere, i nostri stili di vita, il nostro modo di porci nei confronti dell'esistenza. Riguarda il tempo che noi dedichiamo alla ricerca esistenziale, che ci porta alla soglia del mistero, di fronte al quale dovremmo imparare a essere un po' più contemplativi, piuttosto che essere soggetti supponenti di sapere, o tramite la carriera accademica o la professionalità, o tramite l'esperienza. Io so, io so perché ho studiato, io non ho studiato, ma so perché ho l'esperienza. Quel io so deve essere radicalmente sostituito, l'abbiamo ricordato anche in questi ultimi tempi, dal so di non sapere. È l'unica cosa certa, la nostra radicata ignoranza, che non va celebrata, lo ricordo ancora una volta e non mi stancherò mai di ricordarlo, come garanzia di semplicità e di autenticità, ma come condizione umana ineliminabile. Non possiamo sapere tutto, ma questo non ci deve spingere alla rassegnazione del non sapere, ci deve scuotere profondamente nella coscienza, spingere verso una costante formulazione di ipotesi, non di verità assolute. Ipotesi significa dire, penso che date queste circostanze, vista la multidimensionalità della sofferenza umana, vista la complessità rispetto alla quale io in prima persona non posso sottrarmi, fatto tutto questo ci provo. Ci provo con entusiasmo e compassione, senza delegare, ma facendo il tutto in prima persona. E qui veniamo al grande tema oggi, a mio parere, relativamente al mondo dei club. L'apertura alla multidimensionalità della sofferenza umana, partendo senza alcun dubbio dall'aspetto emblematico alcologico, ma non dobbiamo fermarci lì, dobbiamo andare oltre, ma per andare oltre dobbiamo operare dei processi trasformativi ed evolutivi. Per questo è necessario trovare un tempo, appunto, la summer school, cioè il tempo dello svuotamento, attraverso il quale riformuliamo un altro modo di interpretare il cammino. E questa nuova interpretazione del cammino ci pone di fronte a una complessa realtà che riguarda la cura della salute mentale e della salute globale, il prendersi cura della imprevedibilità della vita con tutte le sue contraddizioni, con la nostra pesante presenza antropocentrica, la quale oggi più che mai è chiamata a convertirsi, a cambiare mentalità e trasformarla poi in concreto agire quotidiano, improntato soprattutto dal desiderio di sobrietà, di abbandonare ogni idea di dominio e di potere per vivere serenamente nella appartenenza impotente. Ma questo non significa rassegnazione, appartenenza impotente significa lasciarci andare, lasciarci trascinare con senso di responsabilità rispetto a tutto ciò che ci accade. Farlo non da soli ovviamente, insieme, senza alcuna prospettiva collettivistica o ideologica, con grandi ideali, per carità, ci stanno e come. Penso alle grandi stagioni che sono state vissute nel periodo dopo la seconda guerra mondiale, nella quale anche nel campo della psichiatria si è cercato di liberare l'umanità dal gioco delle istituzioni totali, in primis del manicomio. E penso alla genealogia dei club che prendono forma in Inghilterra con i terapeuti social club, cioè delle comunità, club, delle comunità, delle comunità di persone nelle loro relazioni sociali, i quali prendono in mano il sistema della cura del disagio. Intuizione formidabile che poi Udolin riprenderà relativamente alla problematica alcologica e che ci consegna come una realtà da far evolvere ulteriormente. Però non possiamo fare copia e incolla, dobbiamo fare evolvere le idee, dobbiamo attingere a fonti inesauribili che la tecnica tra l'altro ci permette di poter incontrare, fonti scientifiche, culturali, spirituali, esperienziali. Tutto questo insieme costituisce la base tramite la quale possiamo immaginare un modo nuovo e continuativo con l'esperienza precedente dell'essere e praticare la realtà del club. Ecco perché sarebbe bello che in diverse parti del nostro paese si cominciasse a ponderare e riflettere, sgombrando il campo da tutta la pregiudizialità costituita dall'essere un po' troppo tradizionalisti e conservatori. Conservazione va bene, grande rispetto per ciò che è stato, non c'è nessun dubbio, anzi fonte di apprendimento anche ciò che è stato, ma non basta. Dobbiamo saper andare oltre con coraggio, determinazione e passione, esattamente come è avvenuto in quei mitici anni 60-70 nei quali si è immaginato che un altro mondo fosse possibile. Molte di quelle rivoluzioni sono state tradite, si sono arenate, sembra quasi che abbiano vinto i prepotenti. In effetti sul piano concreto i prepotenti sembrano dominare il quadro complessivo della storia dell'umanità in questi tempi di guerra, i disastri ambientali, di quell'economia di finanza, il tempo dell'economia di finanza è la fonte inesauribile dell'ingiustizia sociale, della iniqua distribuzione delle risorse, della concentrazione delle ricchezze nelle mani di pochissimi. Tutto questo è profondamente ingiusto e non possiamo eludere questa questione sottraendola a una difficile interpretazione che di fronte alla sintomatologia anche psichiatrica, alla necessità di essere inclusa, la contraddizione economica non può essere lasciata fuori dalla porta. Deve essere contestualizzata nelle dinamiche sociali e culturali. C'è il soggetto, non c'è nessun dubbio, con tutte le sue caratteristiche biologiche, ma c'è un ambiente nel quale quel soggetto si esprime ed è un ambiente relazionale tra gli esseri umani, tra gli esseri umani e le altre creature, tra gli esseri umani e l'intero creato che esprime la pienezza della vita in questa nostra madre terra, la vita che ci ha preceduto di qualche miliardo di anni e continuerà a persistere anche dopo di noi, anche quando sarà finito l'antropocene. Ma tutto ci richiama a una responsabilità che deve essere approfondita in modo radicale, dunque sanmasculo, svuotamento dei pregiudizi e proposta concreta di nuovi modi di interpretare il disagio spirituale e di conseguenza anche individuare pratiche di apprendimento, pratiche di cura in senso lato e in senso stretto, che evitano qualsiasi forma di riduzionismo, di delega a tecniche o esperti, i quali ovviamente possono essere utilizzati in termini di servizio però, non di dominio. Altro passaggio molto importante, scienza e la tecnica non possono essere trasformati in una sorta di idola al quale deleghiamo la soluzione di ogni forma di disagio esistenziale e spirituale. No, sono strumenti che devono essere democraticamente conosciuti da tutti e da tutte, utilizzabili. Non so se ci riusciremo ma ci proviamo di dedicare le prossime settimane, i prossimi mesi proprio a questo approfondimento di svuotamento dai pregiudizi, di analisi critica del nostro modo di interpretare il disagio spirituale, di tentativo di indicare strade nuove attraverso le quali la partecipazione attiva dei cittadini, tutti messi ugualmente in discussione, rende possibile una nuova prospettiva ecologica, che non elude i conflitti. Avere una visione ecologica non significa essere perfetti, si è chiaro, ma vivere l'imperfezione con uno spirito nuovo, con senso di responsabilità soggettiva e contemporaneamente con disponibilità alla condivisione relazionale e affettiva. Tutti questi elementi ci impongono una serietà di approfondimento e di studio fatto insieme, consapevoli di non sapere attraverso questa ignoranza non santificata e neppure idolatrata in virtù del fatto che l'ignoranza sarebbe garanzia di semplicità e di autenticità, non lo è proprio per niente. L'ignoranza è un motore perturbante che ci spinge alla soglia del mistero della vita e che ci pone in una modalità esistenziale contemplativa, che significa entrare in punta di piedi in quel mistero rispetto al quale noi riconosciamo la nostra pochezza, la nostra fragilità, il non essere un granché e quando questo non essere un granché diventa particolarmente disturbante e perturbante accogliamolo. Accogliamolo però non come semplicemente l'indicazione di un sintomo, ma come un linguaggio che ci parla delle nostre contraddizioni. Lo so che non è facile tradurre tutto questo nelle pratiche, ma cerchiamo di farlo. Estate dunque, tempo dello svuotamento dei pregiudizi, non lo faremo mai definitivamente, sia chiaro. Nessuno immagina una prospettiva che è una meta precisa, un tempo definito rispetto al quale possiamo chiudere il discorso sul mistero della vita e sull'atteggiamento contemplativo. Dobbiamo essere capaci di maggiore umiltà, di disponibilità alla misericordia, all'amore, alla giustizia e alla liberazione, che non può mai trovare una data finale. Finché l'essere umano sarà su questo pianeta dovrà vivere la contraddizione e questo spirito evolutivo che ci chiede costantemente di metterci in discussione, sentendo di appartenere alla vita che ci precede e sarà dopo di noi. Anche questo non è facile, ci sono tante cose che dobbiamo approfondire, ma io credo che se lo facciamo con entusiasmo e con passione, quella bellissima passione che caratterizza da sempre il tempo delle vacanze. Ebbene tutto questo può essere fonte inesauribile di gioia anche laddove sembra esserci la sofferenza, di rigenerazione del senso profondo della speranza, di liberazione delle ipoteche che noi abbiamo posto sul futuro. Non siamo chiamati a riappropriarci del futuro, per carità. Liberiamo la nostra coscienza dall'idea di voler occupare il futuro. Viviamo intensamente il presente, svuotandolo costantemente e rendendo possibile il futuro nel suo divenire, il quale sarà abitato da altre generazioni. Ma queste generazioni potranno abitare quel futuro impegnandosi anche loro a svuotarlo costantemente, per renderlo sempre libero e sgombro, per poter evolvere con passo spedito e con leggerezza. Buona giornata a tutti e a tutte.